44 notti esponenti della creatività artistica contemporanea hanno donato alcuni loro lavori che dopo essere stati esposti in rassegna sono stati battuti all'asta svoltasi il 28 febbraio presso la sala Bolaffi di Torino. I proventi andranno a sostegno del Museo Diffuso e dell'Istituto Storico della Resistenza, istituzioni che mantengono viva la memoria storica di un periodo che non deve essere dimenticato. L'iniziativa è stata promossa dal Consiglio regionale Comitato Resistenza e Costituzione cui è delegato il Vice Presidente Roberto Placido, dal Museo Diffuso della Resistenza Presidente Gian Maria Iani e dall'Istoretto Presidente Claudio Della Valle.